voci della chiesa iblea un programma della redazione di radiocaris in blu ragusa amiche e amici che siete in ascolto un caro saluto da denise arceri venerdì 18 ottobre l'ufficio per la pastorale della salute della diocesi di ragusa ha organizzato un incontro a partire dalle ore 10 presso l'ospedale giovanni paolo secondo in occasione della festa liturgica di san luca evangelista protettore dei medici degli operatori sanitari e degli artisti l'incontro come ogni anno è dedicato appunto ai medici agli operatori sanitari e volontari per ringraziarli per l'impegno la professionalità la dedizione che ogni giorno donano ai pazienti per l'occasione è stata organizzata una mostra di pittura e di fotografia e come ogni anno la ricorrenza segnerà l'inizio dell'anno pastorale dell'ufficio per la pastorale della salute della nostra diocesi e noi oggi ne parleremo con giorgio occhipinti direttore dell'ufficio per la pastorale della salute della diocesi di ragusa ben trovato grazie anche a voi padre giorgio intanto come sarà articolata la mattinata la mattinata sarà articolata in questo modo noi già collocheremo la mattina le opere che gli artisti hanno preparato saranno tutte opere di pittura focalizzate centrate sulla figura della madonna proprio perché san luca è stato definito il pittore di maria e allora ogni artista è preparato un'opera sulla madonna e quindi in portineria e all'ingresso ecco dell'ospedale all'interno verranno collocate queste opere così possiamo anche non solo farle ammirare a tutta la gente che entra che esce familiari medici e così via anche facciamo un po questo trattenimento e nello stesso tempo spiegheremo anche perché questa iniziativa che abbiamo voluto realizzare è un'iniziativa che già è stata realizzata in altri contesti ricordiamo per esempio per la giornata del sollievo abbiamo coinvolto questi artisti nel reparto hospice a realizzare le quadri delle pitture che adesso sono tante è una cosa bella molto bella che ogni stanza dell'ospice all'interno vi è un quadro c'è un quadro in pittura perché c'è un'altra iniziativa molto bella questo quadro in pittura secondo poi l'ammalato che cambia che esce viene cambiato ne viene messo un altro perché poi a ognuno suscita diciamo un'emozione diversa è un modo come voler colorare arricchire il reparto anche all'ospedale giovanni paolo secondo troviamo tantissimi quadri di pittura realizzati da alunni perché da colore e soprattutto l'impegno anche degli artisti il papa ha chiesto appunto espressamente di attenzionare gli artisti che vanno coinvolti anche in queste opere caritative nei confronti degli ammalati abbiamo avuto una risposta devo dire eccezionale poi ci sarà la professoressa caterina celotti che delineerà un po la figura di san luca evangelista che san paolo definiva caro medico ma non solo san luca l'autore del vangelo e degli atti degli apostoli sappiamo che è l'unico evangelista che ha dato delle pennellate ecco preferisco chiamarle pennellate sulla madonna poi dopo queste del 20 vedremo tutti i singoli quadri verranno spiegati ogni artista realizzato diverse pitture sulla madonna poi attendiamo alle 11 e 30 anche la presenza del vescovo che farà una riflessione sulla giornata su san luca ma in modo particolare una riflessione rivolta ai medici agli operatori sanitari e agli artisti e quindi ci sarà anche la benedizione di tutti i medici e gli operatori sanitari che sono lì a servizio all'ospedale giovanni paolo secondo san luca il pittore di maria il titolo proprio che è stato scelto per questa iniziativa un po per ricordare la tradizione nata in oriente che vede san luca come pittore della madonna e diverse sono le immagini attribuite a lui tra queste ricordiamo la salus popoli romani che è custodita nella cappella paolina della basilica di santa maria maggiore ma anche per evidenziare proprio il legame di san luca con la madonna legame che emerge dalle pagine del suo vangelo benedetta fra tutte le donne ad esempio una delle frasi un rapporto fatto di tenerezza fiducia grande intimità cosa occorre evidenziare del legame di luca con la madonna io evidenzierei tantissimo soprattutto questo legame che mette in risalto la sua grande umiltà e disponibilità nei confronti di dio e del prossimo magnificat è un bellissimo inno la madonna dice grandi cose ha fatto in me l'onnipotente perché ha guardato l'umiltà della sua selva parliamo molto di umiltà ma umiltà significa anche molta delicatezza significa rimanere indietro significa anche vivere nell'ombra del figlio e quello che emerge anche su questo poi quindi l'annunciazione la natività il ritrovamento di gesù quella che a me proprio rimane impressa è che dopo l'annuncio quando l'arcangelo gabriele dice a maria che anche elisabetta sua cugina nella sua vecchiaia avrebbe dato alla luce un figlio non è che l'angelo dice a maria di andare a servire elisabetta di sua spontanea volontà di affrontare un viaggio perché ha in carim insomma è un viaggio lungo da nazareth che ha in carim si vuol dire attaccato a cerusalemme si è fermata circa tre mesi il tempo che elisabetta aveva bisogno del suo aiuto beh in qualche modo san luca ha un po tracciato la figura della madonna come volontaria e noi possiamo definire veramente la madonna come la prima volontaria a tutti gli effetti perché parte già dal cristianesimo il volontariato lei ha dato il via perché volontariato significa che io presto servizio di mia spontanea volontà e quindi è andata a trovare la cugina elisabetta ecco perché saranno anche presenti i volontari dell'avo oltre ai medici e gli operatori sanitari perché siamo in ambito ospedaliero i volontari dell'avo svolgono servizio di ascolto e di vicinanza con gli ammalati maria è stata la prima volontaria e questa è diciamo una bella pennellata che san luca ha dato di maria l'altra pennellata l'abbiamo detto quella della sua piena disponibilità perché maria è beata non solo perché ha portato in grembo gesù ma è beata soprattutto perché ha ascoltato la parola di dio la messa in pratica e poi un'altra pennellata che ha dato è quella diciamo del silenzio di maria di questo suo starsene in silenzio ricordiamo quando i pastori andavano e venivano nella grotta per trovare il bambino e allora si dice che lei meditava tutto nel suo cuore e poi la famosa profezia di simeone quando le dice che anche a lei una spada trafiggerà l'anima questo è stato l'episodio della presentazione di gesù bambino al tempio quindi è stata diciamo un po la profezia che quel bambino sarebbe stato immolato per la nostra salvezza ecco ci sono diversi aspetti pennellate che già lui nel vangelo ha dato della figura di maria cose che non troviamo per esempio negli altri vangeli e per questo poi la tradizione anche ci riporta che lui ha realizzato delle pitture sulla madonna ma in ogni caso che questo sia realtà o non realtà le pennellate di pittura le ha date già nel suo vangelo san luca è il santo protettore dei medici degli operatori sanitari ma è anche colui che dà particolare attenzione ai poveri alle vittime dell'ingiustizia agli ultimi cosa dovrebbe significare per un medico seguire il suo esempio nel lavoro quotidiano e da quali sue peculiarità dovrebbe lasciarsi guidare in san luca troviamo quel bellissimo e stupendo brano del buon samaritano e già là viene delineata la figura del medico che si rifà a quell'uomo che si china su quell'altro uomo vittima dei malfattori lasciato a terra sanguinante e dove anche emergono delle figure di indifferenza e questo lo sappiamo molto bene il sacerdote levita che sono passati con indifferenza ignorando di aver visto purtroppo questa è anche una realtà diciamo odierna perché l'indifferenza da parte non dico dei medici ma anche da parte di tanti di noi nei confronti dei sofferenti è tanta lo si vede lo si è visto in passato soprattutto nel periodo della pandemia ma non è che questo ancora sia del tutto risolto da parte delle persone e che ancora guardano con molta diffidenza la malattia il malato l'anziano il povero l'ultimo invece qua vediamo delineata la figura di quell'uomo che intanto cura ecco si china su di lui gli fascia le ferite gli versa vino e olio e quindi in un primo tempo lo cura cioè dà soccorso a quell'uomo lasciato lì quasi mezzo morto sulla strada però c'è l'altro aspetto che è quello poi che lo carica sul suo giumento e lo porta in un albergo affidandole alle cure dell'albergatore allora lui ha curato quell'uomo ma si è anche preso cura di quell'uomo e allora perché dico che la figura del medico si rispecchia molto in questa parabola il medico deve soprattutto curare e senz'altro l'ammalato però ricordando che l'ammalato non è un contenitore ma è una persona e come persona l'ammalato ha bisogno anche di essere preso in cura vogliamo parlare per esempio nel reparto hospice o reparto oncologico o qualsiasi reparto l'ammalato non va soltanto curato lasciato lì nella stanza l'ammalato ha bisogno io me ne accorgo in prima linea non soltanto come sacerdote come cappellano perché noi facciamo questo servizio nei confronti degli ammalati ed è un servizio che credetemi io amo tantissimo l'ho sempre amato questo servizio la mia vocazione è nata dal servizio agli ammalati però mi accorgo che l'ammalato ha bisogno anche di parlare col medico perché col medico può esternare i suoi dubbi le sue preoccupazioni le sue paure per cui il medico dovrebbe avere questo tempo anche da dedicare all'ammalato e ho visto qualcuno proprio seduto vicino al letto dell'ammalato non solo gli dava speranza sono delle scene straordinarie perché se ci lasciamo prendere dalla routine già i medici sono pochi stressati perché devono correre da un reparto all'altro poi ci sono tutte le parti burocratiche si corre il rischio purtroppo di non prendersi cura e noi battiamo sempre su questo punto ed è il punto in cui si batte san luca con la parabola del buon samaritano che affida addirittura all'albergatore allora vogliamo concludere con questa parabola che è molto bella il buon samaritano rappresenta cristo che si prende cura del malato però poi dopo averlo curato lo affida all'albergatore e gli dice prenditi cura di lui e al mio ritorno ti ricompenserò significa che lo lascia all'albergatore l'albergatore rappresenta il medico rappresenta il volontario rappresenta ognuno di noi che ha il compito di prendersi cura dell'ammalato quando poi verrà il signore questo lo sappiamo capitolo 25 di matteo ero malato e mi avete visitato quando abbiamo fatto questo nei tuoi confronti ogni volta che voi l'avete fatto un fratello più piccolo l'avete fatto a me diciamo che questa parabola è una pittura straordinaria che luca ci offre perché è veramente un episodio di un'umanità grande profonda ogni anno la festa di san luca segna l'inizio del nuovo anno pastorale per l'ufficio della pastorale della salute quale percorso avete pensato e strutturato per questo nuovo anno ma per questo nuovo anno abbiamo strutturato diversi percorsi anche perché l'ufficio si è arricchito anche pure di nuovi elementi sia medici ma abbiamo anche la presenza di una sora francescana sua salvatrice che si è unita a noi in questo momento l'ho lasciata in oncologia in ospice a fare servizio nei reparti allora noi prossimo appuntamento intanto sabato 19 di mattina nella sala avis questo convegno sulle cure palliative poi giorno 11 per san martino ci soffermeremo molto sull'aspetto delle cure palliative quindi del fine vita e anche avremo tanto da dire su questo perché ci sono tante spaccettature che bisogna mettere in rilievo e soprattutto in chiaro perché ancora ci accorgiamo che ci sono molti dubbi per esempio quando parliamo dell'ospice e poi novembre proseguiremo anche con dei percorsi formative che quest'anno saranno fatti in modo di lezio divina e saranno spirituali e formative proprio in vista anche dell'anno giubilare che si apre dinanzi a noi perché poi queste lezio divine ci serviranno per la celebrazione della giornata del malato che verrà coinvolti anche tutti i volontari oltre agli ammalati e quindi sarà un po' diversa e sarà particolarmente ricca questa giornata del malato valorizzeremo molto ad esempio la novena di natale che è veramente l'anno scorso è stato di una ricchezza veramente enorme perché abbiamo celebrato la novena in vari reparti compresi anche quelli del paterno Arezzo e devo dire che è stato bello commovente per cui la valorizzeremo poi avremo appuntamenti anche come Santa Lucia che è la patrona della vista avremo appuntamenti di prevenzione di sulla salute anzi noi come ufficio di pastorale della salute abbiamo già per la prima volta un ragazzo che frequenta la scuola un giovane che ci aiuterà un po' a capire quali sono i problemi giovanili quindi su come possiamo intervenire su come possiamo aiutare anche i giovani che oggi hanno diverse problematiche diverse dipendenze poi proseguiremo con la Pasqua la conclusione per noi sarà la giornata del sollievo che quella daremo anche un ambio spazio che merita di avere Poc'anzi ci è restituito una bellissima immagine dell'ospedale appunto un medico seduto accanto ad un paziente e quindi questo momento di relazione è accennato alla speranza perché donava anche speranza a quel paziente il giubileo indetto da Papa Francesco per il 2025 ha come tema proprio la speranza Papa Francesco ci invita ad essere generatori e cercatori di speranza tra le corsie del dolore la speranza è spesso direi proprio il modo concreto di far sentire la carezza di Dio Sì è importantissima perché proprio riflettevo questo quando ieri entravo nel pronto soccorso che era stracolmo di gente e vedevo molti volti perché certo passando la notte lì su una barella qualcuno anche su una sedia veramente vedevo dei volti pieni di tristezza quasi quasi dei volti disperati perché quando si entra soprattutto là c'è l'incognito perché poi dovranno affrontare degli esami particolari cosa succederà e quale sarà il verdetto perché c'è stato un paziente che mi ha detto sto aspettando il verdetto no ho detto guarda veniamo qua al pronto soccorso per chiedere aiuto non per aspettare verdetti in ogni caso noi dobbiamo affrontare certo situazioni difficili perché stare delle notti intere al pronto soccorso buttati su una barella o seduti su una sedia aspettando degli esami aspettando una TAC aspettando una risonanza magnetica è ovvio che si venga a innescare dentro di noi una tensione e una paura indicibile soprattutto quando si parla di TAC sappiamo molto bene anche perché diciamolo chiaramente stanno accadendo tante cose veramente brutte e quindi i pazienti hanno bisogno della speranza allora portatori di speranza siamo noi e come possiamo portarla questa speranza con delle bugie pietose sicuramente no perché l'ha malato spesso e stamattina sono andata a trovare una in oncologia lei sa benissimo quello che ha ma allora come la porta la speranza la speranza non si deve confondere con bugie pietose ma piuttosto con il guardare il positivo della vita persone che ci circondano quello che possiamo ricevere l'uno con l'altro perché veramente poi attraverso la comunicazione cerchiamo un po' di spostare l'attenzione non soltanto su quello che potrà accadere domani tra un mese io dico sempre viviamo ogni giorno intensamente lo dico a me stesso e lo dico agli altri viviamo il presente allora la speranza è questa vivere il presente e vivere le cose belle che ogni giorno la vita ci offre perché sappiamo benissimo che la situazione da un momento all'altro può cambiare per tutti ringrazio don giorgio occhipinti direttore dell'ufficio per la pastorale della salute della diocesi di ragusa per essere stato con noi grazie mille e io ringrazio sempre voi per la vostra disponibilità salute e ringrazio tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito a presto Denise Arceri e buon proseguimento con i programmi di Radio Caris in blu avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di Radio Caris in blu ragusa